L'Aifredune si inserisce all'interno del Comune di Cavallino in un mosaico di interventi sulla spiaggia che partono dagli anni 90, dagli interventi del Magistrato Leacque Consorzio Venezia Nuova di consolidamento del cordone dunale e di seguito poi il Comune ha visto una serie di interventi di miglioramento dell'apparato dunale anche a seguito dell'introduzione dei SIC ZPS biotopi litoranei della penisola di Cavallino. Quindi tutta questa serie di interventi fra cui l'Aifredune ha costituito un rafforzamento del cordone dunale che è un aspetto molto importante sia a livello paesaggistico considerando il fatto che l'area è frequentata da circa 6 milioni di presenze turistiche all'anno ma anche soprattutto anche in ragione dei cambiamenti climatici rispetto alla sicurezza idraulica del territorio. Quindi sicuramente questo intervento, l'Aifredune sommato a tutti gli altri interventi tra cui in un ultimo appunto lo studio C19 sempre del Magistrato Leacque Consorzio Venezia Nuova legato alle opere di compensazione del Mose rafforzano questo sistema che è diventato quasi un tratto caratteristico del territorio e anche un po' per la morfologia stessa del territorio che si appoggia sulla diga della bocca di porto del Lido quindi ha proprio una predisposizione naturale alla crescita delle dune che ne fanno proprio un tratto distintivo e molto caratteristico. L'Aifredune ha contribuito a costituire una forma di consapevolezza nel turista, nell'abitante rispetto all'ambiente naturale e quindi ha rafforzato proprio l'identità del territorio come un territorio di grande interesse naturalistico legato appunto al cordone dunale.